Nella nostra introduzione a Van Gogh abbiamo descritto l'artista come un personaggio difficile, sicuramente disturbato, ma soprattutto disturbante, cioè un personaggio che ha difficoltà a intrattenere dei rapporti sociali normali con le persone che stanno intorno e forse il rapporto con la madre e col padre, che entrambi si vergognavano di lui, del suo comportamento, della sua figura, addirittura della sua pittura, ha influito nell'incapacità di mantenere un rapporto stabile non solo con i suoi cari ma proprio con i suoi conoscenti. Il padre gli diceva tu mi uccidi, tu mi avveleni la vita addirittura e la madre, che si vergognava anche della sua pittura, nel momento in cui Van Gogh lascia la casa paterna e si trasferisce a Parigi e va a trovare Theo, la prima cosa che fa è quella di disfarsi immediatamente di tutti i suoi disegni, di tutti i suoi dipinti. Abbiamo visto che anche Parigi non è un luogo adatto alle caratteristiche psicologiche e comportamentali di Van Gogh, sarà un luogo importante perché verrà a contatto con tanti artisti della nuova scuola, scoprirà una tavolozza esplosiva, completamente nuova, quindi aderirà al colore in qualche modo degli impressionisti e soprattutto dei post impressionisti e poi comunque allaccerà dei rapporti importanti tra i quali vedremo quello fondamentale con Gauguin, ma poi fondamentalmente Parigi più che altro gli lascia questa abitudine al consumo sfrenato di superalcolici, soprattutto dell'assenso che poi sarà una delle cause che lo porterà verso la morte. Il Midi invece, il trasferimento nel Midi sarà un momento fondamentale, una sorta di nuovo inizio e noi vediamo evidentemente nell'intensità del colore di un dipinto come questo della Casa Gialla, proprio questa sorta di ottimismo cromatico. Van Gogh sente di essere nel posto giusto, le sue idee cominciano a chiarirsi, i colori si fanno più saturi, è come se gli oggetti cominciassero a mettersi a fuoco. Una sorta di liberazione della linea e del colore dove il disegno si semplifica e soprattutto si semplifica nella traduzione sulla tela, perché comunque sarebbe sbagliato non fare attenzione anche all'attività grafica, quindi al disegno di Van Gogh. Van Gogh aveva maturato nel corso degli anni una propensione al disegno importante, qui vedete in basso a destra la rappresentazione della Casa Gialla, una rappresentazione molto più attenta, molto più dettagliata di quello che poi accade appunto sulla tela dove appunto la fantasia e l'espressività si liberano completamente, si sciolgono dai vincoli anche del disegno appunto. Disegno che lui utilizzava ampiamente, soprattutto in questa fase arlesiana, come tecnica per analizzare in modo oggettivo i soggetti prima di tradurli, prima di penetrarli col colore, deformandoli, trasfigurandoli secondo la sua soggettività, secondo le sensazioni, le emozioni, gli stati d'animo. Quindi diciamo questa parte della carriera di Van Gogh, di Van Gogh disegnatore, è un po' meno nota al grande pubblico, ma ha una sua importanza anche solo proprio nell'atteggiamento, nel trattamento della pennellata, del tratteggio, che ci mostra proprio una sorta di coerenza interna dove nella pittura invece noi abbiamo una sensazione quasi di ingenuità pittorica, che evidentemente è un'ingenuità ricercata. Questo disegno quindi viene utilizzato in una delle fasi più ricche della carriera della parabola artistica di Van Gogh. La fase arlesiana è, da un punto di vista della qualità ma anche della quantità, forse il momento più ricco della sua produzione. Van Gogh dipinge un plein air, ha un'attività frenetica, realizza centinaia di disegni, di dipinti ad olio, e questa luce del midi, quella quale viene a contatto, fa esplodere la sua tavolozza in un colore assolutamente più intenso, più forse addirittura in certi casi brutale. Della pittura impressionista resta appunto la ricerca di un colore limpido, sicuramente è la pratica della pittura un plein air, ma qui vediamo una libertà formale assoluta che non tiene più conto della prospettiva o delle proporzioni delle figure, o comunque della realisticità, potremmo dire, del colore in chiave ottica. C'è una comprensione della luce talmente profonda che la sua tavolozza si arricchisce, si accende di una gamma che addirittura diventa abbagliante, e che viene comunque utilizzata per trasfigurare le scene con il filtro della propria percezione. Quindi una sorta, potremmo dire, di impressionismo moltiplicato, enfatizzato ed estremamente esplosivo. Un dipinto come questo, per esempio, la veduta di Arles con Iris in primo piano, purtroppo la riproduzione è di bassissima qualità, ma insomma noi abbiamo la sensazione di una sorta di ingenuità. Ma ecco qui noi ci rendiamo conto che la pittura un plein air non serve più a Van Gogh per restituire l'impressione, ma per deformare il carattere della natura stessa, trasfigurandolo, quindi facendolo una sorta di specchio della interiorità dell'artista, quindi il paesaggio che si piega e si modella secondo il pensiero dell'artista e non viceversa, non è l'artista che piega le sue capacità per la rappresentazione del paesaggio. Quindi l'opera di Van Gogh è un'opera che mira specchiarsi nel carattere delle sue idee e quindi è una sorta di moltiplicatore dell'intensità emotiva attraverso il colore. E la sensazione che ci sia qualcosa di ingenuo e di sommario è abbastanza evidentemente solo una sensazione iniziale perché la struttura dell'opera è evidentemente ben equilibrata, anche lo spazio identificato per fasce susseguenti una all'altra e soprattutto nell'uso del colore, anche proprio nell'uso dei complementari, uso del quale lui parla in una lettera a Teo, proprio riferendosi a questo dipinto, è molto ben ponderato. Il viola dei giaggioli che dialoga col giallo dei ranuncoli e del grano, il rosso dei tetti di queste piccole case che si scontrano col verde della boscaglia, degli alberi e poi soprattutto questa tendenza a sfumare, a fare in modo che il dipinto trovi una sua soluzione in questo cielo così materico, dalle pennellate larghe, cariche, dense ed evidenti, con la chioma degli alberi che trascolora dal verde a una sorta di azzurrina, quindi sembra quasi fondersi col cielo circostante. E con una intensità, una potenza espressiva che ci fanno pensare a una sorta di joie de vivre, cioè una sorta di desiderio di mostrare proprio l'intensità, la potenza espressiva della natura e quindi potremmo vedere in questo una fase molto positiva della pittura di Van Gogh, ma contemporaneamente è evidente che il soggiorno arlesiano è anche il soggiorno della amarezza per la presa di coscienza di non essere accettato. Van Gogh si rende conto in maniera definitiva di non riuscire ad integrarsi con la comunità umana, quelle persone che gli stanno intorno, considerate che Van Gogh aspirava al dialogo, al confronto con i colleghi, il suo desiderio era quello della fondazione di una colonia artistica, cosa che non riuscirà mai a fare proprio per i suoi limiti caratteriali. Quando Van Gogh dipinge la natura potremmo dire c'è una felicità espressiva che gli deriva proprio dalla purezza della natura, quando invece si interroga o utilizza come soggetti, soggetti umani o tutto ciò che ha a che fare con l'uomo viene fuori un dolore che è un dolore anche dichiarato, in questo caso è abbastanza evidente il tentativo di tradurre su tela il disagio dei reietti, delle persone sole, delle persone abbandonate, degli esclusi della società. Questo è il caffè di notte, il caffè che si trovava in piazza Lamartem, dove lui aveva la sua residenza che stava aperto tutta la notte e che accoglieva gli alcolizzati, le persone sole, i disperati e lui si sente parte di questo mondo. Lui dirà in una lettera a Teo la morte è sempre molto sgradevole e tanti pittori muoiono, impazziscono di disperazione o si bloccano nella loro produzione perché nessuno li ama come individui. Quindi questa solitudine è qualcosa che lui sente come proprio un dolore intenso. In questo caso noi abbiamo un dipinto che è un dipinto appunto in parte disturbante, uno scontro fortissimo di complementare il rosso e il verde del soffitto e delle pareti, un contrasto acido, aspro, una linea deformata, una prospettiva aperta, amplificata, che tende a destabilizzare il normale punto di vista dell'osservatore per mettere proprio al centro questo biliardo un po' goffo nel suo rimanere silente, nel non essere utilizzato esattamente come le due, tre sedie vuote che ci danno appunto il senso di una sorta di metafora dell'assenza, una goffaggine che ha a che fare con l'assenza. E lo stesso pittore dirà il quadro è uno dei più brutti che abbia mai fatto, è l'equivalente benché diverso dei mangiatori di patate. Ho cercato di esprimere col rosso e il verde le terribili passioni umane. E poi va avanti e ci racconta questa sala vuota, ci descrive proprio i colori, la sala del rosso sangue, giallo spento nel mezzo, un biliardo verde, quattro lampade giallo-limone con un irraggiamento arancione e verde, ovunque una lotta, un'antitesi dei verdi e dei rossi più diversi, le figure delle canaglie addormentate piccole nella sala alta e vuota del viola e del blu. E va avanti nella lettera proprio descrivendo questo senso di solitudine, che se ci pensiamo è perfettamente assimilabile al tema della solitudine che era stato per esempio di Degas nella sua rappresentazione dell'assenza. Ma mentre Degas racconta la solitudine della società, quindi ci sta parlando di qualcosa di esteriore, Van Gogh trasforma questo soggetto in un grido di dolore interno, sta raccontando la sua solitudine interiore. Siamo appunto, ripeto, in una fase nella quale Van Gogh si rende conto di non riuscire ad avere rapporti corretti col resto del mondo, con le persone che gli stanno intorno, ma aspira al confronto con i colleghi, che è qualcosa di impossibile, proprio perché il suo atteggiamento è un atteggiamento assoluto, totalizzante in tutto ciò che fa. Noi ricordiamo per esempio il suo comportamento nel Burinage quando faceva il predicatore, non è un problema che riguarda soltanto la pittura, è proprio il carattere di Van Gogh che tende ad assolutizzare, a rendere totalizzante tutto ciò che fa. E in effetti la pittura sarà sempre poi l'unica compagna di viaggio, l'unica consolazione, l'unico stimolo ad andare avanti. L'unico momento almeno apparentemente positivo di questo soggiorno da questo punto di vista sarà l'arrivo di Gauguin nell'ottobre del 1888. In realtà poi il rapporto tra Gauguin e Van Gogh andrà deteriorandosi sin da subito. Noi non ci concentreremo su questo aspetto perché appunto ha a che fare più col romanzisco che non con la storia dell'arte. Sappiamo che poi questo rapporto non funziona, scoppieranno liti continue perché sono due artisti completamente diversi per indole e anche per visione artistica e sappiamo che il passaggio finale sarà la decisione di Gauguin nell'antivigilia di Natale del 1888 di abbandonare Arlo e Van Gogh si taglierà il lobo dell'orecchio in questo gesto di autolesionismo che poi lo porterà a comprendere, diciamo, di avere un problema. Lui aveva problemi di epilessia, abusava evidentemente di alcol, aveva allucinazioni e quindi questa tensione emotiva la leggerà lui stesso come all'inizio della follia e si farà ricoverare a Saint-Rémy-de-Provence che era una clinica per alienati mentali. Però diciamo almeno all'inizio, nel momento in cui Gauguin si reca, si deve recare, scrive a Van Gogh che andrà a risiedere con lui ad Ard, questo è un momento assolutamente positivo, quindi diciamo è una fase felice e una sorta di nuovo inizio e vorrà celebrare Van Gogh l'arrivo dell'amico e del collega come una sorta di benvenuto pittorico che si sostanzia nella realizzazione di questa nuova serie di girasoli. Van Gogh aveva già realizzato i girasoli perché nel girasoli vedeva la possibilità di fermare la luce, in questo caso la luce e il sole di Provenza, nell'idea che questi girasoli appesi a decorare l'atelier nel quale avrebbero dipinto insieme Van Gogh e Gauguin potessero moltiplicare, perpetuare la luce di Provenza anche di notte ma sempre Van Gogh avrà realizzato i girasoli e ne realizzerà anche successivamente tanto che lui stesso dirà se Jeannine ha la peonia, posto la malva rosa io in effetti mi sono preso prima di altri il girasole con un atteggiamento che sembra replicare da un certo punto di vista la stampa giapponese questi sono i crisantemi di Okusai e con un atteggiamento invece proprio pittorico completamente nuovo perché noi vediamo uno sfondo e il vaso che tendenzialmente vengono trattati in maniera più liquida e più piatta mentre invece i fiori veri e propri hanno un trattamento che è un trattamento più materico, più potente il risultato è un atteggiamento quasi fisico la resa di questi steli cigliati di questi fiori così carnosi, così densi proprio con un colore che è steso a rilievo che è utilizzato attraverso non solo il pennello ma anche la spatola come a dare corpo, a dare rilievo fisico agli elementi dei fiori ci darà come risultato questa sorta di ottimismo cromatico che tenta di mettere in relazione la potenza espressiva della natura con l'aspirazione creativa quindi positiva dell'artista stesso come vedremo appunto abbiamo detto l'esperimento non finirà bene nonostante il soggiorno arlesiano sia uno dei momenti più ricchi da un punto di vista produttivo e anche proprio stilistico dell'artista sarà anche l'inizio della fine quindi Van Gogh avrà una crisi nervosa talmente forte da convincersi a farsi internare in questo prima all'ospedale comune e poi nell'ospedale psichiatrico di Saint-Rémy ma lo vedremo nella prossima lezione grazie a tutti